per tutto cioè era il posto più bello che c'era qua dove facevano i nidi falchi e tutto quanto guarda te c'è più un cazzo cioè e dove finificavano tutti i falchi e le cose eh ma questo era il pezzo più alto che loro venivano su cioè tu dimmi hai misurato te che era il pezzo più alto e quando arrivavamo gridavano sempre cioè tu dimmi è tutto non so i mobili con lo scarpe certo certo quindi dobbiamo andare giù dalla e andiamo giù dalla strada qua e basta dai andiamo giù il torrente andiamo giù il torrente e basta dalla scaletta siamo già qua ormai usciamo e basta non 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 guarda in alto e Marco grazie a tutti